Buongiorno, siamo qua oggi per ricreare il laboratorio delle tagliatelle Narcos. Tu volcaste in me tutto il desamore che aveva in tuo pezzo, senza immaginare che a mio coraggio non esiste sufrir. Io mi marciarei senza dirvi a Dio tutto questo desecchio e mi resignare, ma tu pagarei quello che hai fatto di me. E' Escobar, abbiamo Escobar, è in via Ventura 15. E' Escobar? E' Escobar? E' in via Ventura 15. E' in via Ventura 15. vediamo che forse anche seduta è figo però non ci vedo bene allora tre, due vabbè veniamo a scovare questa è la caglia di turatise tra poco arriveranno tre nonne ad impastare le tagliatelle là c'è anche del vino qualcosa da bere io sono a fare le orecchiette i maccheroni ma lei è pugliese del gargano stiamo girando oggi appunto per presentare tagliatelle e tortellini fatti a mano durante il salone del mobile che faremo qui per Panoramix qui all'Ambrate in via Ventura 15 e per presentare appunto una delle gemme del made in Italy abbiamo pensato di interpretare uno degli episodi di di Pablo e per raccontare tutto questo abbiamo ricreato un laboratorio Narcos dove delle nonne appunto impasteranno e faranno le tagliatelle scelta il caso scelta più in via scelta più in via grazie mille faccio vedere taglia taglia ma è beccarato il primo carico è salito un commando si arriverà a sgominare il laboratorio di papo ragazzi ma quella è la mia camicia ma quella è la mia camicia da qua non è mia quella camicia ma non era un vecchio West mi hanno lavorato tutti adesso è stato per Sergio Leone ma un altro film ma tu con la pistola con il coso rosso i militari che fucili giocate no c'è il pennarello il fucile è dritto puntato un potenziale obiettivo ci si muove in tutto il mondo si muove in tutto il mondo si muove in tutto il mondo provate ok ragazzi dietro andate 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 ancora il commando si è fatto di amici con cui ci divertiamo e lavoriamo a Milano buongiorno la pistola però devo lo mita no 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 tu c'è lo mita dove posso andare a darci a questo fianco a quelli mauri mi serve per favore non ci puoi fare un po' lì ce l'ho ce l'ho io il cappello è tuo l'occhiale ce l'hai quello là vero ok usa il minio non stavo pensando si usa il tuo ce l'hai almeno vedi un boot che tu sta io ce l'ho io tu ce l'hai mi serve solo il giubbotto scaspa scaspa vuoi andare via dei boot sono pronto è diventato una pausa vuoi il baffo? ci sono andati riformati qua questa roba è oh prendete tu fai un po' cominciare a mettere un po' vieni qua con me infatti voi ci avete ma è pure tu con lui prendi quello che vedete non ho mai visto il film io entro faccio questo percorso qua il secondo si mette qua in controllo e il terzo l'ingono noi siamo di qua ok il secondo non è il secondo entri ti giri così e ti metti qua ok allora 3 2 1 azione Pablo non sta qui Pablo non sta qui brava la signora così è un po' cansta ok hai un sacchetto di farina in mano si un sacchetto di farina alla signora ok bellissima questa ok perfetto e un'altra ancora in 3 2 1 grazie mille questa è fantastica grazie 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 a voi grazie mille grazie 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 Azione Sim è qua dove? Proprio dritto Skyline è qua Guarda un passo dietro Aldo Aldo dietro dietro No dietro verso di qua Aldo, arrivate proprio fino a qua Però il gioco di sguardi c'è tra voi e Paolo Aspetta un attimo Quindi voi dovete stare più al centro possibile Guarda qua Battichi occhi un attimo Lentamente tiri sulle braccia come se stai per sparare E poi devi fare il gesto più veloce però Appoggi e fai pasta o plomo Però sempre ti seduto? Sì Questa? Lentamente Oppure ho già tante porchette No 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 perché poi le prendi dopo Tante porchette sennò Vuol dire che tutto è l'aspetto che arrivano le Direi va gente Invece no è una cosa improvvisa Una cosa improvvisa Allora queste le posso tirare fuori dal cassetto Non te muovere Non te muovere Ma pare una rana pare E' buona Ma che cazzo va Dai ragazzi abbiamo poca luce Giriamo Dai 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 Non te muovere Non te muovere Non te muovere Così No no Però giriamo poi il calcio Il calcio qua sulla spalla Non te muovere Non te muovere Allora Potrei anche un'altra cazzata No No va bene Va bene quello Guarda dritto Mauri Ma fa sto plomo ridendo non si puoi Dopo fa il sorriso tuo Basta O plomo Poi Voi una bella sporchettata Facci il rinno per magli Vai vai Tu è la madonna No Diva la tagliatella Eeeh Sai quel sorriso che hai fatto Se ridi alla tagliatella e mangiatela Diva la tagliatella Abbiamo 3 2 1 bomba ragazzi